È esattamente alle mie spalle il centro di raccolta dati del sindaco uscente Giovanni Maria Cuofano nel bel mezzo di via Vincenzo Russo, a debita distanza in realtà anche dal comitato elettorale, quello ufficiale e su 3630 schede scrutinate sono ben 2047 i voti per Giovanni Cuofano con una percentuale del 56,39% mentre si fermerebbe per ora al 29,89% con 1.085 preferenze Giuseppe Fabricatore, 7% per Mimmo Oliva con 257 voti su poco più di 3600 schede Ferrentino 3,5% con 127 preferenze Mandara 3,22 con 117 preferenze Questo è il trend registrato dal comitato elettorale di Giovanni Maria Cuofano che vi ripeto è qui alle mie spalle